Ennesimo sciopero dei neturbini la scorsa settimana, che sono in stato di agitazione da novembre perché è inarretrato con gli stipendi e la città è piombata nuovamente nell'emergenza igienico-sanitaria. Simbolo del disastro empedoclino questa strada, su cui hanno iniziato a indagare gli agenti del commissariato frontiera di Porto Empedocle, diretti dal vicequestore aggiunto Cesare Castelli. E se la DIGO si indaga sull'avvertenza rifiuti, fonti ben informate raccontano che il sindaco Ida Carmina è andata a bussare in procura con le carte del contratto pluriannale di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ereditato dal precedente commissario straordinario del Comune Marinaro. Ma tornando alla montagna di rifiuti che ha bloccato la strada e costretto anche un pullman a cambiare direzione, che sia una protesta o uno scherzo, si tratta di reato. L'avvio delle indagini ha portato a riconoscimento e poi alla denuncia alla Procura della Repubblica tre persone empedocline. Fondamentale è stato questo video che ritrae gli uomini, qualcuno agli arresti domiciliari, creare questo oasi di immondizia con all'interno anche un albero di Natale. I tre soggetti sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per danneggiamento e imbrattamento e gli verranno contestati anche gli illeciti amministrativi per conferimento non autorizzato e per aver provocato l'interruzione della circolazione stradale. Non potevano essere stati cani a trascinare tutti quei rifiuti e a comporli in quel modo, ha commentato il sindaco di Porta Empedocle da Carmina. È stato fatto un vero e proprio blocco stradale ed era chiaro fin da subito che fosse opera di persone. Persone che cercano di turbare l'opinione pubblica e determinare la distruzione e il denneggiamento dell'immagine della città e dunque dell'immagine politica di una persona che fa parte di un movimento. E il tutto avviene ad un mese delle elezioni, sono coincidenze o c'è una regia dietro, chiede il sindaco del Movimento 5 Stelle e da Carmina. Porta Empedocle vive giorni di vera apprezzione, da diversi giorni gli operatori ecologici incrociano le braccia per un vero e proprio sciopero selvaggio, conclude la Carmina.